Continuando l'esplorazione degli strumenti messi a disposizione da Google Drive, vediamo il menu Altro che apre un altro sottomenu, possiamo dire, con altri strumenti ancora. In qualche caso sono strumenti anche più complessi, ad esempio Moduli, Google, serve per creare dei form interattivi, cioè dei veri e propri questionari, le cui risposte sono raccolte in un foglio elettronico ed elaborate anche statisticamente. Si tratta questo di uno strumento che può essere adoperato per fare dei quiz relativi a valutazione o anche per fare dei sondaggi di opinione o semplicemente per fare dei database e raccogliere dei dati di tipo anagrafico. In questo momento non lo trattiamo perché è un argomento un pochettino più lungo e complicato, continuiamo a trattare le prime cose, siamo durante un primo approccio agli strumenti di Google e quindi vediamo le potenzialità dello strumento Disegni Google. Facciamo clic su Disegni Google. In questo caso si apre una pagina vuota, vediamo questi quadratini bianchi e grigi a significare che lo sfondo è trasparente, cioè l'immagine che stiamo creando in questo momento ha uno sfondo trasparente, sta a noi poi decidere se mettere un colore oppure non mettere nulla e lasciare lo sfondo trasparente in modo che il disegno si vada a sovrapporre eventualmente su un grafico, su un diagramma, su uno sfondo di pagina web nel quale lo dovessimo andare ad inserire. Anche qua vediamo bene o male ormai l'interfaccia che conosciamo, qua possiamo inserire un titolo Test disegno per esempio, il menu testuale, il menu che c'è in alto grosso modo recita sempre le stesse voci con la possibilità di inserire casella di test, immagine, grafico di diversa natura, un grafico che proviene da un foglio elettronico per esempio, inserire testi di tipo artistici, diciamo testi con forte caratterizzazione grafica, inserire linee, forme, tabelle e così via. Di qua abbiamo la possibilità di fare zoom avanti e indietro sulla visualizzazione, allineare le immagini, gli elementi grafici, eccetera, eccetera. Vediamo giusto quattro cose, vogliamo inserire un cerchio, eccolo qua, l'abbiamo inserito, il cerchio in questo caso in realtà è un'ellissa, se voglio inserire, ho fatto un cerchio giusto per caso, in realtà queste sono ellissi se voglio fare un cerchio, un vero cerchio, devo premere il tasto maiuscolo, lo shift maiuscolo, in questo caso le proporzioni sono obbligate. Naturalmente della figura posso cambiare il colore di riempimento, così come posso cambiare anche il colore della linea. Adesso mettiamo un verde, non si vede molto bene, facciamo la linea più spessa, ecco qua, abbiamo fatto, abbiamo editato questa figura. Le figure possono essere ridimensionate, sono, diciamo la grafica è di tipo vettoriale, cioè le immagini sono descritte dal punto di vista software in maniera tale che possono essere sempre ridimensionate, spostate. Possiamo inserire delle frecce, possono servire per fare diversi tipi di visualizzazione, anche qui casella di testo, il bello della grafica vettoriale consiste nel fatto che anche se l'abbiamo incollata, poi possiamo sempre rieditarlo come testo, mentre invece nei programmi di grafica bitmap, come paint per esempio, o come photoshop, una volta che nel testo l'abbiamo incollato diventa testo a tutti gli effetti, cioè diventa immagine a tutti gli effetti, non lo possiamo più editare. Cosa interessante sono i connettori, perché i connettori consentono di fare ad esempio diagrammi mappe, mappe mentali, mappe concettuali, diagrammi di flusso, anche se esistono dei software specializzati per questo, ma intanto questo strumento consente tranquillamente di farli, per esempio questo era diciamo a linea morbida, adesso ne stiamo usando un altro ad angolo o retto, i connettori hanno la particolarità che rimangono queste linee connesse, anche se noi spostiamo gli elementi grafici. Per raggiungere uno sfondo, non voglio dilungarmi ulteriormente, facciamo clic col destro del mouse, si apre il menu contestuale, alla voce sfondo, scegliamo uno sfondo, ad esempio questo giallo chiarissimo, ed ecco che abbiamo realizzato l'immagine con lo sfondo desiderato. Per il momento ci fermiamo qua.